Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sono partiti i lavori di Roma Servizi per la mobilità per la messa in sicurezza di via Cardinal Pacca, strada che collega via del Casale di San Pio V con via Aurelia Antica. Si interverrà su pavimentazione, segnaletica, messa in sicurezza dei percorsi pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche.